Filippo Busin, che giudizio ha la Lega su questo decreto Imo? Pessimo, questa è l'ultima tappa di una specie di calvario durato nove mesi e che ha accompagnato il governo Letta fino dall'inizio, che poteva essere l'occasione per iscrivere finalmente i tributi locali sugli immobili, che ne avevano veramente bisogno, e invece si è dimostrato una cosa veramente fallimentare, che ha danneggiato prima di tutto i comuni, lasciati nell'incertezza fino all'ultimo di questa importante imposta che è determinante per i loro bilanci, e in secondo luogo i cittadini che alla fine saranno illusi perché dovranno pagare il prossimo anno, già quest'anno, un'imposta più alta e che penalizza soprattutto i nuclei familiari più numerosi e le persone meno abbienti. E per quanto riguarda la Banca d'Italia, il governo che cosa ha deciso? Per la Banca d'Italia diciamo che è scandaloso che sia stato inserito in un decreto legge, perché questa è una riforma storica e molto importante di un istituto che è centrale per la vita politica economica del nostro paese, è stato inserito in un decreto senza i presupposti di urgenza e straordinarietà, assolutamente, solo per un problema che riguarda la copertura di un buco di bilancio. E noi contestiamo questo più che nel merito, perché poi nel merito ci sono anche cose condivisibili, però diciamo il metodo utilizzato e l'aver inserito questo provvedimento in un decreto legge con l'IMU proprio non ci stava e questo lo contestiamo profondamente. Grazie. Grazie.